Parliamo adesso con il capitano Mario Scetti di questa brutta partita del Pergo. Sì, è andata male. Diciamo che il primo tempo abbiamo anche creato buone occasioni. Abbiamo finito il primo tempo comunque sotto di un gol, però i segnali erano positivi. In secondo tempo dopo aver preso il terzo gol ci siamo disuniti completamente e poi è andata male. È una partita comunque da dimenticare, c'è da lavorare sugli errori che abbiamo commesso, però guardiamo sempre il lato positivo e sicuramente arriviamo pronti per domenica per l'inizio del campionato perché personalmente so il lavoro che stiamo facendo col mister, quindi non c'è preoccupazione grossa. Tanti errori come l'ancenove anche tu, soprattutto nella fase difensiva. Sì, diciamo che abbiamo incontrato di fronte una bella squadra, soprattutto dalla metà campo in avanti, con giocatori di qualità. Sì, abbiamo commesso degli errori, più che altro io non parlo mai di errori individuali, ma comunque sull'errore individuale secondo me il compagno può sempre rimediare, quindi sono stati errori più che altro di squadra. Mi è sembrato che anche la squadra è mancata quando è andata in svantaggio dal punto di vista psicologico, non è più regito dopo dieci minuti di secondo tempo e mancava ancora tanto. Sì, diciamo che forse la cosa un po' più che è balzata all'occhio è stata quella di non essere riusciti a reagire caratterialmente dopo aver preso il terzo gol e diciamo che bisogna lavorare anche su quello perché comunque andiamo a affrontare un campionato che è davvero difficile e poi quest'anno è saltato ancora di livello secondo me, quindi bisogna lavorare anche su quello. Si è preoccupato per il campionato? No, preoccupato no, consapevole, comunque come ti ho detto è un campionato molto ma molto difficile, però noi siamo consapevoli dei nostri mezzi, quindi sappiamo che possiamo fare un bel campionato, sicuramente c'è da lavorare parecchio, però i mezzi, i giocatori, la squadra, il gruppo ci sono per far bene.